focus 3.0 e quantum academy presenta benvenuti a la voce dei libri dove le parole prendono vita due parole su questo nuovo podcast ideato da alberto lori ed enrico ballantini frutto della collaborazione tra focus 3.0 e quantum academy ogni settimana leggeremo la quarta ricopertina di un libro a scelta seguito dal primo capitolo i libri saranno i più vari dalla narrativa thriller fantasy simil commedia e via dicendo alle biografie alle inchieste agli instant book ai saggi chiunque può proporre un libro da leggere o attraverso questo sistema pubblicizzare o promuovere la propria opera basta concordarlo con focus per ulteriori informazioni scrivete a focus il mistero della vita 3.0 chiocciola gmail.com oppure inviate un messaggio whatsapp al numero 338 544 73 99 ma non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e andiamo al nocciolo del programma ovvero al libro giacché ovviamente nessuno di voi amici all'ascolto era al corrente di come avremmo organizzato il programma comincio con un mio libro un poliziesco dal titolo una strana coppia e senza perdere altro tempo vi leggo la quarta ricopertina tanto per sapere di cosa parla questo volume uscito di recente che potete trovare su amazon e sulle maggiori piattaforme online gisella donofrio la protagonista del romanzo è un agente scelto dell'unità pronto intervento uopi della polizia di stato nel corso di un'operazione perde in un conflitto a fuoco il partner mario piombi al quale era legata da una lunga amicizia fin dai banchi di scuola ne è così turbata che viene sospesa dal servizio attivo e solo dopo l'aiuto di una psicologa viene destinata al lavoro d'ufficio in un commissariato di zona di roma intanto la terapia psicologica cui viene sottoposta è tanto efficace da farle recuperare quelle capacità medianiche alle quali aveva rinunciato per non farsi prendere per pazza in questo modo però si rende conto di poter contare non solo sulla presenza ma anche del fattivo aiuto dello spirito del suo antico compagno grazie a lui viene a conoscenza di una trama eversiva che non solo minaccia l'intero paese ma che ha preso di mira uccidendoli i compagni della sua vecchia squadra gisella e mario la strana coppia mettendo insieme le forze indagano fino a far luce sul diabolico intreccio internazionale alla base degli omicidi e degli attentati l'esito finale vedrà sul banco degli accusati un gruppo di mandanti insospettabili e riporterà gisella donofrio a rioccupare il posto che le spetta con una promozione sul campo nella squadra d'azione dell'uopi primo capitolo un'operazione nata male finita peggio un paesaggio distopico una distesa di auto disastrate semi rottamate in attesa di trattamento strutture di ferro di carcasse di auto impilate una mastodontica gru detta ragno che stringeva ancora tra le ganasce ciò che rimaneva di una fiat punto da stivare nella pressa alti muraglioni di vetture pressate in parallele pipidi informi un panorama squallito tenebroso illuminato e intermittenza dai lampi temporaleschi sotto una pioggia incessante accompagnata di tanto in tanto da tuoni cupi e cavernosi in questa atmosfera da girone infernale otto agenti dell'uopi unità operativa di primo intervento del reparto prevenzione crimini al comando del sergente alfio lentini marciavano intenutanti sommossa quattro da un lato quattro dall'altro lungo i muraglioni di auto pressate sulla sinistra lentini seguito dalla gente gisella donofrio e alle sue spalle da lamberto blandi e da peppe cosentino dall'altra parte guidava il gruppo mario piombi seguito da presso da monica rossi alessio valbonesi e giovanni bitetti in silenzio mitra heckler and cock ump calibro 9 imbracciato e le metto calato sulla testa alla tenue luce delle torce seguivano come ombra il sergente attenti a seguirne i gesti di comando uno dopo l'altro superarono le varie aree del deposito di demolizione auto in direzione del capannone principale con il magazzino ricambi e gli uffici amministrativi rispettivamente al piano terra e al piano rialzato gisella tirò su col naso e con la destra si deterse gli occhiali in dotazione sferzati dalla pioggia che continuava a cadere spinta dalle folate di un vento gelido sentiva il cuore batterle rumorosamente in petto eppure non era la prima volta che partecipava operazioni del genere la soffiata era arrivata nel tardo pomeriggio un gruppo sovversivo di recente costituzione di chiara derivazione anarchica che raccoglieva le peggiori teste calde antisistema stava mettendo a punto una serie di attentati a roma per destabilizzare il piano di rinnovamento socio politico che il governo della nuova coalizione stava approntando per mettere la parola fine agli anni di profondo dissesto sociale ed economico attraversato dalla repubblica la voce anonima giunta al 113 parlava chiaramente di una serie di ordigni messi a punto in quello sfascia carrozze periferico della magliana che quella sera stessa sarebbero stati trasferiti per le varie destinazioni in città l'intera squadra di pronto intervento con gli artificieri era stata inviata nella zona e adesso divise in squadre di otto uomini ciascuna convergevano verso quello che era il nucleo centrale dell'intera area di demolizione la squadra di lentini costituiva la testa da riete le altre avevano la funzione di stringere la cintura intorno all'intera struttura il sergente sollevò la mano chiusa a pugno per intimare l'alt e subito mentre tutti si fermavano all'ombra delle vetture pressate indicò l'ingresso del magazzino ricambi che copriva l'intero pian terreno in silenzio raggiunsero il portoncino d'ingresso mettendosi ai lati per non correre il rischio di essere colpiti se qualcuno all'interno avesse aperto il fuoco lo stesso sergente saggiò la maniglia della porta non era chiusa a chiame respirò di sollievo non c'era bisogno della riete tattico per sfondare la porta gisella pensò che fosse strano non trovare nessuno di guardia pioveva dirotto ma questo non avrebbe impedito se effettivamente all'interno si svolgessero operazioni illecite di tenere delle sentinelle smise di pensare perché vide il sergente spalancare la porta e fare segno ai primi di entrare gisella e mario piombi ruppero all'interno con i mitra spianati non c'era nessuno seguiti dagli altri imboccarono il passaggio centrale tra le strutture di ferro a ripiani riempiti all'inverosimile di pezzi di ricambio delle auto rottamate nessuno li fermò arrivarono davanti a una porta di ferro chiusa gisella saggiò la maniglia e abbassandola spinse mario le lanciò un sorriso di complicità e si incuneò nello spiraglio guardandosi alle spalle la ragazza si accorse che lei e mario erano soli gli altri si erano sparpagliati nel magazzino allo scopo di ispezionarlo non volendo lasciare il collega da solo gisella dopo un attimo di esitazione lo seguì per le scale raggiunsero insieme il pianerottolo davanti al quale si aprivano due porte gisa le bisbigliò all'orecchio mario io vado a sinistra tu a destra non è meglio aspettare gli altri mormorò la ragazza titubante no non possiamo permetterci di perdere tempo ribattì il collega e compiglio deciso andò per aprire la porta era chiusa a chiave dall'interno gisella fu più fortunata la porta di destra era solo succhiusa si incuneò dentro puntando davanti a sé la canna del mitra e la torcia nello stesso tempo di il frastuono di una porta che si spalancava in seguito a un calcione ben assestato concentrata nel perquisire la stanza nella quale era entrata non segnalò altri rumori esterni un lampo seguito da un tuono lacerante illuminò a giorno il locale e le bastò uno sguardo panoramico per accorgersi di essere entrata nell'ufficio amministrativo dell'azienda di demolizione due scrivanie ingombre di faldoni gettati alla rinfusa fogli sparsi sul pavimento due computer accesi che spandevano intorno una luce spettrale una stampante una fotocopiatrice e contro la parete un lungo mobile d'acciaio con le ante spalancate e dietro incassata nel muro una cassaforte spalancata non ci voleva molto per comprendere che quella stanza aveva subito una perquisizione da cima a fondo mentre si avvicinava alla cassaforte gisella udì con chiarezza due deflagrazioni ravvicinate trassalì stringendo con maggiore forza il mitra tra le mani e mettendo l'indice sul grilletto poi al pensiero che fossero colpi sparati nelle vicinanze ebbe il timore che mario fosse caduto in una trappola rapidamente uscì dalla stanza cogliendo con la coda dell'occhio l'ombra di blandi entrare in quella che aveva appena lasciato e sembrò strano che non avesse udito le deflagrazioni intanto il sergente eseguito dagli altri agenti emergeva dalla scala introdottasi nel nuovo ambiente alla luce livida di una nuova saetta che martoriava il cielo nero ebbe l'impressione di un'ombra che sgattaiolava dalla finestra spalancata ma subito il suo sguardo fu attratto dal corpo diverso sul pavimento accanto al cestino nel quale stavano consumandosi al fuoco alcuni fascicoli il nome di paolo le uscì di bocca in tono accorato si lasciò cadere a terra afferrando dal taschino la radio in dotazione per gridare uomo a terra occorre un'ambulanza presso l'auto demolizioni di una mano l'afferrò per la spalla era lentini agente donofrio è inutile chiamare piombi è morto senza più forze gisella temette di non farcela si appoggiò con un braccio alla parete mentre lentini ordinava con voce tonante uomini perquisite gli uffici niente vi deve sfuggire tu donofrio vai fuori a prendere una boccata d'aria e chiama la scientifica dobbiamo scoprire qualunque traccia abbia lasciato quel bastardo le ultime parole del sergente lentini furono coperte da un'esplosione le pareti ondeggiarono sgritolandosi di nuovo si alzò la voce del sotto ufficiale fuori ragazzi se non vogliamo fare la fine di topi in trappola uno dopo l'altro si precipitarono dalle scale oltre la rimessa finalmente all'aperto sotto la pioggia battente appena in tempo l'intero ufficio interno dell'auto demolizioni esplose in un diluvio di fuoco vetri e suppellettili lo spostamento d'aria benché fossero tutti arrivati a distanza di sicurezza li gettò tutti a terra rimettendosi l'elmetto che gli era scivolato via lentini urlò tutti bene blandi russi donofrio bitetti valbonesi cosentino uno alla volta risposero tutti presente musica Grazie a tutti. Grazie a tutti.